Buongiorno, benvenuti alle Terme di Salso Maggiore e di Tabiano. A giugno finiscono le scuole e qual è il momento migliore, se non questo, per approfittare di portare i vostri figli a fare le cure termali? Le cure termali rappresentano da tantissimo tempo un vaccino naturale in grado di stimolare il sistema immunitario e di impedire poi nei mesi invernali a vostro figlio di ammalarsi. Ecco che abbiamo pensato per vostro figlio e per chi lo accompagnerà un bonus di 50 euro in prodotti termali o in terapie termali, quindi approfittate di questa importante occasione per venirci a trovare in questo mese. Vi aspettiamo alle Terme di Salso Maggiore e alle Terme di Tabiano dove troverete importanti novità per la vostra salute e il vostro benessere. Grazie. Grazie.